Padre Pio è stato un convinto assertore della santità universale, non accettava la mediocrità, la scelta di comodo ed risultava a non fermarsi mai nel cammino delle rinunzie per seguire Cristo sofferente. Spenceva tutti, anche chi si trovava in situazione di peccato inveterato, a continuare sforzi per un'amicizia con Dio. Padre Pio non chiedeva nel cammino della santità delle grandi penitenze, delle macerazioni straordinarie, ma una vita protesa al dominio di sé, osservanza dei doveri nella famiglia, del lavoro, della società. Il cammino di conversione e di spiritualità deve essere praticato in modo diverso dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedua, dalla donna sposata. Cioè ogni persona ha un cammino davanti a sé. È necessario impegnarsi, cercare di non fermarsi mai, protesi all'amore di Dio. Dovunque ci troviamo possiamo e dobbiamo aspirare alla vita divina. E questo è un pensiero di San Francesco e di Sales. Saremo tutti mistici. Abbiamo un episodio a Vico e del Gargano, un convento nostro dei padri Capuccini, in una posizione bellissima di un panorama immenso. Pinete, Olivetti e in lo sfondo il mare. I frati sentono forti colpi di fragilazione nel chiostro del convento. Alle domande del superiore una voce dice Sono un frate che in questa chiesa sono sepolto e poiché vivendo ormai senza disciplinarmi così come era stabilito, ora per giusto giudizio di Dio sto facendo la penitenza di soddisfazione. L'episodio riportato e riporta la nostra attenzione sul problema del luogo e del come si attua la purificazione nel purgatorio. Ora, caro amico che mi segui, io non so tu dove ti trovi, forse stai in casa, forse stai in ufficio, e ti trovi a qualche parte e magari più stanto in un posto la tua mente è altrove. Magari pensa al tuo figlio che sta facendo gli esami di maturità e pensi a un ammalato, ad un parente che sta all'ospedale eccetera. Allora, mentre stai seduto a casa tua, la tua mente va oltre, esce fuori casa e svolge delle presenze, delle attività. Questo si verifica anche molto bene durante la televisione, che uno magari sta davanti alla televisione e non si accorge neppure di che cosa stanno trasmettendo, perché la mente della persona è altrove per altri impegni che magari lo assorbono col pensiero. Questo è che cosa ci dice? Che il corpo sta a una parte e lo spirito è altrove. E questo si verifica anche con la vita del purgatorio. Noi stiamo a una parte col corpo, ma la nostra mente vola, la nostra mente è un posto di purificazione. A conferma di quanto detto possiamo riportare un episodio vissuto da Padre Pio in cui si nota che non vi è un riferimento al luogo e a frazione di tempo. L'episodio riguarda Padre Giuseppe Antonio, un frate che era malato e Padre Pio sapeva molto bene di questa malattia, seguiva e pregava ed era molto legato a questo padre. Passando questo frate si trovava nel convento di Foggia e stato lì veniva visitato anche da altri frati. Ci fu padre Camillo che passando per Foggia vide la situazione di padre Giuseppe Antonio e salendo a San Giovanni Rotondo riferisce a Padre Pio la gravità della malattia. Una sera o meglio una notte, alle due di notte, Padre Pio lascia il coro dove era stato a pregare e si reca nella sua cella, nella sua camera. Entrando vede padre Giuseppe Antonio e spontaneo dice Ma come? Mi hanno detto che tu stavi ammalato, anzi in una forma grave e tu ti trovi qui. Come ti trovi qui? E Padre Giuseppe Antonio e ora sono passate tutte le mie malattie e disparve. Ecco, scompare. Praticamente non ci sta interruzione di tempo tra la comparsa di padre Giuseppe Antonio e lo scomparire contemporaneamente. Di fatti, dall'analisi degli orari risultò che quanto padre Giuseppe Antonio stava nella stanza di padre Pio chiudeva gli occhi alla luce di questo mondo. Ancora una volta veniamo a dire che più che luogo, più che tempo parlando della purificazione nell'altra vita dobbiamo parlare di intensità, di dolore per amore, di saldezza.